Un patrimonio architettonico e paesaggistico prezioso ma in pericolo. Siamo a Ponte di Brenta, quella che vedete è Villa Breda, antico edificio del 600, oggi luogo di incontri dedicati alla cultura e al teatro. A prendersene cura sono i volontari dell'associazione Viviamo Villa Breda e sono proprio loro i primi a essere intervenuti qualche giorno fa a causa di un pesante cedimento del muro di cinta dell'edificio. Ci è crollato 30 metri di muro, d'altronde non si può nascondere 30 metri di muro storico. Noi abbiamo provveduto immediatamente come associazione a tamponare la situazione mettendo una rete di sicurezza per difendere anche il sito che comunque attraverso questa breccia si andava a finire nel cortile di tra i condomini. Ora è tutto in sicurezza nel rispetto dei vincoli di tutela dei beni storici e culturali, anche se il sogno sarebbe quello di vedere tornare la villa all'antico splendore. Per rimettere a posto servono molti soldi ma certamente non si può chiedere attualmente alla regione siamo consapevoli che non può la regione affrontare, perché conosciamo molto bene la situazione pregressa della Fondazione Breda, il disastro della Fondazione Breda non è certo colpa della regione attuale. Intanto l'impegno dell'Associazione Massimo per tornare da fine aprile a riaprire al pubblico le porte di questo luogo di inestimabile valore. Rimbocchiamo le maniche come cittadini e cerchiamo di tutelare finché è possibile questo bene storico patrimonio della nostra comunità.